Ciao ragazzi, benvenuti da me e dal Polo Vazlavic a questo corso di machine learning in Python. La libreria che useremo è scikit-learn, è tutto open source. Sarà un corso diviso in due parti. La prima parte è interamente gratuita qui su YouTube, riguarda i fondamenti della libreria. Potete imparare a scrivere i vostri modelli di machine learning. La seconda parte, che è un po' più avanzata per chi magari già ci lavoricchia un pochino e può spendere qualcosina di informazione, sarà a pagamento sul mio sito. I requisiti per seguire il corso sono che sapete un pochino di Python. Per il resto, l'altro requisito è che siete gasatissimi e buttiamoci subito nel vivo della cosa. Ci sono un po' di cose da installare. Immagino che Python già ce l'abbiate installato. Comunque, per chi non avesse installato Python, sono qui su Windows apposta per rendere le cose più facili a tutti. Chi sta su Mac o Linux sarà molto più facile, vedrete. Comunque, basta andare su python.org e andare qui su download, python 3.7, viene scaricato un eseguibile, voi li installate e avrete Python installato sul vostro sistema. Va benissimo Python, insomma, dal 3.4 in su, non importa la versione specifica. Se ne avete già installata una, va benissimo. L'altra cosa da installare, non obbligatoria, ma io ve la consiglio vivamente, è PyCharm Community Edition. che è questo editor molto molto ben fatto e che è completo di tutto quello che ci serve e che è orientato soprattutto allo sviluppo più che alla data science. Tendo a consigliare questo piuttosto che usare notebook o altri editor perché questo qui vi permette di impostare le cose da un punto di vista un po' più professionale per quanto riguarda l'informatica. Comunque, eccolo qui. PyCharm Community Edition. Download, lo installate, quando l'avete installato, aprite, ci mette 35 anni ad aprirsi, ed eccolo qua. Allora, quando andate qui a fare il nuovo progetto, vi verrà fuori questa finestrella, e c'è scritto location e interpreterà location, basta andare insomma sulla cartella in cui vogliamo mettere il progetto. Io ce l'ho sul desktop e poi metto corso ml python youtube pollo. Ah, va benissimo così. Poi interprete di progetto. Qui conviene fare nuovo interprete con l'ambiente virtuale. L'ambiente virtuale non è altro che una cartellina che sarà qui nel nostro progetto in cui potremo installare tutte le librerie. Queste librerie vivranno solo ed esclusivamente in questa cartellina senza andare a sporcare i file di sistema. Quindi Python useremo quello che abbiamo installato a livello di sistema, ma le librerie e le dipendenze del nostro progetto staranno in questa cartellina. Gli ambienti virtuali sono utili perché potrete costruire ambienti virtuali diversi in base a quello che volete fare. Ne so, ambienti virtuali per lo sviluppo web, ambienti virtuali per la data science, e potete riutilizzarli. Noi ne facciamo uno nuovo. La location, come vedete, lui ha messo da solo la cartella di nome di progetto e questa sottocartellina si chiama BAND. Qui dentro andrà a installare tutte le librerie. L'interprete è Python 3.7, quello che abbiamo installato prima. Crea. Ciuf ciuf. Ciuf ciuf. Adesso sta facendo tutte le sue cosine. Eccoci qua. Allora, siamo qui, vedete, c'è la nostra cartellina e qui sotto abbiamo tre finestrelle importanti. Todo non ci interessa adesso. Il terminale è appunto il terminale in cui possiamo eseguire i comandi per esplorare il nostro sistema, anche per lanciare magari, per usare git, controllo di versione, quello che stiamo facendo. E c'è la console Python. Questa qui è utile perché ci permette di provare degli snippet di codice. 5 più 8. Eccolo qua. Non penso che serva il print. Eccolo qua. Qui possiamo provare delle righette di codice. Ci fa vedere anche se dichiariamo delle variabili. Qui questa finestrella qui ce le fa vedere. Per il resto, dentro questa cartellina di progetto c'è BEMB che è il nostro ambiente virtuale in cui appunto verranno installate tutte le librerie e questo qui è la cartellona in cui sarà il nostro progetto. Clicchiamo col destro. Nuovo Python file. Lo chiamiamo Hello. Questo sarà il nostro Hello World di Machine Learning. Per installare le librerie che ci servono, ok, intanto lanciamo questo Hello World. Lo faccio un po' più grande. Ok, print. Ciao, pollo. Per lanciarlo, ogni volta che facciamo un nuovo script, per lanciarlo la prima volta e solo la prima volta soltanto, c'è da cliccare col destro e fare Run Hello, il nome del file. Poi da quel momento in poi si apre qui sotto una quarta tab, Run, da cui possiamo rilanciare lo script ogni volta che vogliamo, con questo pulsantino verde. Ciao, pollo. Lei. Eccolo qua. Ciao, pollo. Non so perché li diventa piccolo ogni volta, ma fa niente. Ciao.